Momento topico della stagione per la pallacanestro Trapani che oggi pomeriggio partirà alla volta di Udine dove domani giocherà l'ultimo recupero che completerà la stagione regolare Granata. Una partita assai importante in cui la formazione guidata da coach Daniele Parente è padrona del proprio destino per cercare di conquistare playoff del campionato di Serie A2. A roster al completo per la 2B contro il Trapani che torna sul parquet a distanza di due settimane dalla vittoria contro l'Urania Milano. Andiamo ad affrontare Udine che è in un momento di grande forma ha dimostrato durante la Coppa Italia arrivando fino in fondo. Sarà una partita difficile perché loro sono forti, perché in trasferta, perché non giochiamo da dieci giorni quindi dovremo fin dall'inizio recuperare il ritmo partita. Per noi è una partita importante nel senso che vincere vuol dire arrivare quinti e quindi avere la sicurezza di playoff. Noi lo sappiamo, i ragazzi lo sanno, quindi sicuramente faremo di tutto per vincere sabato sera. Dopo questa partita il 25 aprile inizierà la seconda fase. Se arriviamo quinti andremo nel girone giallo. Girone giallo vuol dire essersi qualificati dal quarto, quinto e sesto posto e andremo a giocare andato e ritorno appunto con la quarta, la quinta e la sesta dell'altro girone portandosi i punti, quindi portandosi le vittorie. E questo vuol dire avere i playoff, la certezza playoff. Se arriviamo settimi c'è la certezza della salvezza, ma non c'è la certezza dei playoff perché andremo a fare lo stesso discorso, quindi contro la settima, l'ottava e la nonna dell'altro girone portandosi punti, ma solo le prime quattro di questo girone a sei acquisiranno i playoff e andranno a giocarsi la griglia.